ciao a tutti ragazzi sono zeltin e oggi per la prima volta sul mio canale un video di rocket league con joan giovanna tigre attenzione con la spowa da caccia 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 oggi faremo una doppia invalutata assisi vediamo se vincere fatti e soso ovviamente vinceremo perché siamo più forti del mondo almeno del mondo di rocket league adesso vedrete quando siamo bravi forti abbiamo vinto non abbiamo vado io peste stanno tutte e due sullo stesso schermo peste vinceremo facilmente guardate quanto sono bravo il gol già la polpettella io ho detto che siamo forti mi sono accappottato guardalo guardatelo c'è siamo se è ovvio che siamo veterani veterani e lui è veterano io sono veterano bravo ha fatto la cappellata attenzione mannaggia dobbiamo andare in porta perché sennò si fanno un altro gol bello attenzione fanzio vanno l'autogol vai giusto no nooo nooo giusto cosa mi combini la mette per joanna tigre joanna tigre palo la sbagliata bravo rosamente qui seriamente mi chiama così hai detto mericisimo attenzione la sbaglia tutta me la leva bravo bravissimo bravissimo esl campionati internazionale stiamo facendo vedere colpo aereo giocare guardate ah mi sposta infame la mette rossi posso guardalo come lo sposto da cattiveria riusciranno mai a fare un gol no perchè prenderà anche la seconda polpetta mi sposti eh mi sposti come siamo così bravi come siamo così bravi eh va superman come ti devo chiamare just for one com'è poua no da booo eccola eccola vai per joanna tigre senza turbo complimenti i più forti i più forti i più forti best partita in the world riusciranno i nostri a fare gol non penso proprio eccolo ci prova nessuno è in porta la porta è impacante attenzione la mette al centro attenzione just for one mamma mia questo giocatore guardatelo guardatelo eh come si dice gauls gauls non gauls attenzione un altro gol di zettin il più forte tutti a lesley quest'anno no ma ciò glielo dici attenzione il cross per no da 2 a 0 a 3 a 2 attenzione la grande la squadra dell'est noi abbiamo fatto vedere che non sapevamo giocare questi due pipponi gli abbiamo fatto vedere gli abbiamo fatto credere che potrebbero vincere ma invece cazzo mi sono accappottato la mette al centro no non è vero per nessuno dio al centro per loro polaroid mamma mia non si capisce più niente mi dà attenzione no che che mannaggia mannaggia che culo sti cose cose frate guarda l'ameraca questo è lo script gioco scriptato è lo script attenzione il gauls madonna mia questo è da come si dice da denuncia attenzione questo è gold loro no non è vero mo si no la toglie gol il gol di polaroid mamma mia assist di zetti e vincono questa partita la portano a casa la portano a casa signori che si si lo